Quarta corsa di Palermo, bel miglio per indigeni di 4 anni, favorita al gioco, Real B-Power numero 8 dello schieramento, si va in partenza e discosto il numero 7, Richelieu GSM, la prima fila invece è ben compatta e c'è il momento dello stacco che vede Rogito di Azzurra ritrovare come in uno discorso uno slancio iniziale che sembrava aver perso ed in poche battute Scavalca Radice del Nord che lungo lo steccato ha colto un buon lancio. Per linee interne anche Real B-Power è filtrata dalla seconda fila e si trova in terza posizione, ha steccato dunque al comando Rogito di Azzurra, 28,5 i primi 400 metri quindi si va forte, si trova scoperto per linee esterne Regale, brutta posizione per l'allieva di Massimo Zanca, la scia di Regale è stata guadagnata da Rigoletto e Rab che invece è una posizione tutto sommato interessante. Ha abbastanza graduato ma neanche più di tanto Rogito di Azzurra, 44,5 i primi 600 metri, Regale al suo fianco a seguire l'altra pariglia formata dai due compagni di allenamento Radice del Nord e Rigoletto e Rab, poi ancora Real B-Power che ha preso una buona partenza ma adesso si trova un po' murata, steccato, non si vede come potrà trovare posizione mentre Ronchi si getta in terza pariglia, potrebbe essere all'anello debole della catena esterna. Dunque si viaggia abbastanza velocemente però adesso ha preso davvero in mano in maniera notevole il Rogito di Azzurra che ha potuto raggiungere il chilometro con un parziale di tutto comodo e adesso naturalmente proverà ad allungare, resta di fuori Regale e stenta a progredire Rigoletto e Rab anche perché il ritmo adesso è diventato piuttosto incandescente, adesso potrebbe tentare di trovare la destra libera Real B-Power ma Natale Cintura neanche ci prova a venire all'esterno, soltanto adesso riesce a tagliare in fuori, potrebbe essere una buona soluzione. Nel frattempo Rogito di Azzurra sta calando, Regale insiste davvero alla grande dopo percorso esterno e Regale che vince nei confronti del capofila Rogito di Azzurra, davvero una gran vittoria, media non granché qualche decimo sotto l'1.15 per una splendida Regale, 9.22 la quota, Massimo Zanca in sediolo, Domenico Zanca l'allenatore, buon secondo Rogito di Azzurra mentre per il terzo posto probabilmente c'è la spunta di misura, il numero 8 di Real B-Power, dunque vittoria di Regale che dà un bella soddisfazione al signor Carmelo Galluzzo in numeri 5, 6, 8 l'ordine d'arrivo naturalmente ancora ufficioso della quarta corsa di Palermo.